amici di tiktok buongiorno e buona domenica a tutti dal vostro gianfranco oggi domenica 5 maggio 2024 sono le ore 11 e 05 e faccio questo piccolo video dedicato al nostro caro carboncino che come sapete venerdì ha fatto un altro video e quindi è un video durato circa un'ora e mezza e perciò è naturalmente parlava anche come state vedendo dal titolo del tribunale di catania guai a parlare dei reati di affidati alla famiglia mafiosa graviano perciò una famiglia criminale che stanno all'interno delle istituzioni e infatti carbone nella sua live parlava anche come come si dice viene descritto dal tribunale di catania dove in perterriti magistrati continuano a fare frote in processo penale ed è pistaggio per cercare di proteggere i magistrati di caltanisetta palermo termini merese è un magistrato che faceva servizio a reggio calabria gaetano carogeno pace che si faccia per quell'altro pace quindi è e quindi è è una loro volta hanno protesto sistemi criminali tipo mafioso da lui denunciati dal dal carbocchio che sta sopra la mia testa e quindi e quindi naturalmente nell'audienza che lo ha fatto come sostiene sono sono stati zitti per aver raccontato il voto di scambio tipo mafioso avvenuto con l'ausilio di un affiliato alla famiglia mafiosa di brancaccio caviano ovvero coloro che sono stati condannati per la strage di borsellino e l'omicidio del padre pino pugliesi e tanto altro affiliato a pur essendo pur indagato e processato dalla procura di palermo carta risetto non sono mai stati condannati per via i processi durati anche per 12 anni di cara di reati prescritti affidati che all'epoca ai fatti era giudici di pace a palermo avvocato dell'autista dei fratelli gravi graviano consulente tributato alla ama fallita anche per merito suo che riciclava soldi e famiglie graviano nella sua cooperativa sociale la fenice che prendeva parti della ma che affia affiliato dopo aver accumulato un ottimo curriculum è stato anche promosso ora fa il pubblico ministero alla procura di palermo però l'avvocato tommaso scania avete capito poi naturalmente dopo vi metto in descrizione il video di carbocchio però l'unica cosa che mi è piaciuto carbocchio che finalmente anzi carbone che finalmente ha cominciato ad attaccare il popolo italiano un popolo scemo e ignorante a servilismo che che purtroppo da da molti anni anche da qua anche da quattro anni e hanno dimostrato di essere un popolo di vigliacchi e di me ne freghissi quindi anzi vi faccio sentire un pezzettino del video di carbone e quindi sentite quello che che dice il nostro caro carbone naturalmente mi riferisco a palamare quindi non certamente carbone quindi per una volta tanto carbone sta dicendo le cose pure quindi è che può finalmente anche lui piano piano c'è arrivato perciò a capire che il popolo italiano è il primo essere a servilismo perciò sentite ma non solo paramara caro carbone in galera dovrebbero andarci il popolo complice che si sono fatti chiudere in cassa per 60 giorni che hanno messo il bavaglio si hanno fatto le posti sono fatti anche il green cuts quindi al popolo anche loro dovrebbero andare in galera come palamare perciò perciò caro carbone e non dimenticare che se siamo nella nella cacca totale dobbiamo ringraziare anche il popolo anche quelli che sono andati a festeggiare il terzo scudetto del napoli anche quelli dovrebbero andare in galera perciò non certamente io perché perché il terzo scudetto inutile fatto vincere da schwab io non l'ho andata a festeggiare perché come sapete io ho preferito più puntare più a salvare questo paese piuttosto di pensare al divertimento ma purtroppo il mio popolo parte nome scemo ignorante come l'italiano non hanno pensato come me e quindi hanno pensato diversamente e ancora oggi per pensare ancora all'illusione abbiamo vinto il terzo scudetto anzi hanno fatto vincere il terzo scudetto come hanno fatto vincere anche lo scudetto all'inter perciò perciò cari italioti napoletani otti alcune cose voi non ci arrivate perciò andiamo avanti quello che ha fatto palamara e confessato dalla palamara sono reati eversive contro lo stato esatto ma siccome siamo davanti a un popolo di ignorante un popolo di menefreghiste compreso anche il mio popolo napoletano anche i primi sono i napoletani quindi poi vengono i salernitani e poi vengono i romani e i milanesi e piano piano arrivano tutto perciò da napoli tutta l'italia fino alla da fino alla sardegna ragazzi quindi è purtroppo siete un popolo di lote queste questo è quello che siete un popolo di lote o un popolo di stupide queste continuano tranquillamente a delinquere indisturbate sapendo che c'è una massa di gente che magari le vede come grandi eroe come tanti vedono come grandi eroe magistrate del calibro di grattere di nino di matteo di scarpe nato bravo solo perché fanno parte dei professionisti dell'antemafia che sono stati viste e sponsorizzate da tutte le media nazionali come paladine dell'antemafia e noi abbiamo dimostrato e denunciato con proprio la mano di essere dei criminali che proteggono il sistema criminale fino anche andando a sabotare le indagini e i procedimenti per le stragi di falcone e borsellino esatto come hanno fatto tempo fa come quella grande lote di scarpinato che che nel costo del 92 andò a insambiare tutte le indagini che faceva la buonanima di borsellino riguardante l'informativa caronte perciò purtroppo come anzi come ha detto carbone purtroppo la maggioranza degli italiani sono dei cretini perciò anche quelli che seguono ancora Giuseppe Conte anzi quelli italiani che seguono ancora Conte per me dovrebbero essere arrestati e chiusi dentro un carcere a vita e buttato via le chiavi perciò anzi anzi cari fans di Giuseppe Conte anzi non dimenticate che questo signore che sta sopra di me ha anche denunciato Conte per associazione di stampo mafioso lui è il caro l'ex ministro della giustizia affonso buonafede perché quando carbone andò a reclamare a Conte riguardante le le impurità che stavano commettendo i magistrati andando a sabotare tutte le denunce con il modello 45 eccetera e andò a dire a Conte di prendere i provvedimenti Conte disse che non era competenza sua e allora automaticamente anche lui automaticamente Conte era diventato complice perciò e quindi l'associazione governo del popolo APS di carbone provvede subito a fare una denuncia anche Conte di lui che purtroppo come sapete in Italia è nessun popolo se per esempio ha avuto la la dignità di andare ad affiancare questo pelato che sta sopra di e quindi non avete neanche avuto la la dignità di pretendere l'applicazione della legge la punizione del re no avete pensato le cazzi vostre avete messo le cose in faccia il green cards e tutto questo e mentre voi continuate ancora a sbatterveni di lui a fregarveni di lui e le sue battaglie e questi vanno avanti e stanno finendo di distruggere l'Italia comprensa anche il vostro amato Conte anche se non anche se lui non sta facendo il presidente del consiglio perciò la sta facendo la meloncina al posto suo perciò e quindi ecco perché cari taglioti vi dovesse solamente mettervi scurne per quello che state facendo e perciò è per colpa vostra che l'Italia oramai è finita perciò ma non ma non ma non ma non solo qui ci sarà per se ne vedremo anche delle belle perciò è ci saranno altre cose entro fino al 2030 quelle che questi qua faranno e come vi dico sempre a tomar por culo cari taglioti e cari napoletaniotti perciò ciao e buon colpe politico giudiziario dell'89 nove nove